Domenica e lunedì prossimi siamo chiamati di nuovo alle urne per rispondere a tre quesiti referendari sul sistema elettorale. Sentiamo in questo servizio le ragioni del sì e dei no e di chi invita a non andare a votare. Vediamo. Meno di una settimana ormai al voto per il referendum elettorale di domenica e lunedì prossimi. Anche in Friuli Venezia Giulia piuttosto fiacca la campagna dei vari schieramenti, fattore che unito all'assenza in regione di ballottaggi per le amministrative, fa temere ai promotori dei quesiti referendari una scarsa partecipazione al voto. A rischio è, come sul piano nazionale, il raggiungimento del cosiddetto quorum, indispensabile per la validità del referendum. Per il sì il partito democratico. Il popolo della libertà nel suo complesso lascia libertà di coscienza, anche se molti esponenti sono per il sì. Andrò a votare perché sono convinto che ci sia la necessità di una grande semplificazione. L'abbiamo visto anche nelle elezioni amministrative e anche nelle elezioni europee. I cittadini ormai chiedono di fatto che vi siano due schieramenti precisi, che ci siano dei partiti di riferimento veri e che tutti i partiti più piccoli in qualche modo siano destinate, non dico a scomparire, ma a confluire attraverso le grandi ideologie di pensiero che oggi appartengono al centro-destra e al centro-sinistra. L'unico partito schierato apertamente per il no e radicali italiani. I promotori sostengono che attraverso questo referendum si arriverà a un sistema bipartitico, quindi con due partiti, alle elezioni. Uno vincerà e l'altro perderà. Noi siamo sempre stati per questo sistema, ma per un sistema bipartitico anglosassone, che obbliga tutti i partiti e non solo i piccoli a riformarsi. Con questo sistema che verrebbe fuori dal referendum, invece, a riformarsi non sarebbero i due maggiori partiti, ma sarebbero solo i piccoli che sarebbero destinati a scomparire. Invitano invece all'astenzione tutte le altre forze politiche. È importante dare un segnale chiaro che un regime bipolare, popolo della libertà e partito democratico, non è consono alle esigenze italiane. e riteniamo che in Italia si debba proporre un sistema alla tedesca o un sistema francese con un ripristino del voto di preferenza.